Tutto questo fatto abbastanza misterioso, signori, nasce in un quartiere di Melbourne, in Australia. Nascosto da una normale abitazione, normalissima abitazione, quindi nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che, è stato scoperto un parco auto abbandonato con anche l'iconica in mezzo Porsche come gioiello, insomma la ciliegina sulla torta. Solo che questo non è il primo caso di ritrovamenti del genere, insomma siamo di fronte a un susseguirsi di cose. A quanto pare, non è impossibile scovare per il mondo dei cimiteri di auto abbandonate senza una spiegazione. È stato il caso di un appassionato di Melbourne, in Australia, che ha scoperto un cimitero, o paradiso, vedendola dal lato opposto, esattamente dietro alla casa del vicino. Il proprietario della strana collezione ha detto chiaro e tondo che non intende vendere alcun mezzo. Contento lui, è il caso di dire, perché, buttate lì senza un minimo ordine, si scorgono nel video un paio di Range Rover d'epoca, una Mercedes 280, una BMW Serie 5, una Citroen XM, due Porsche, tra cui una Speedster che attualmente sul mercato dell'usato vale dai 250.000 ai 300.000 dollari. Tantissimo ma comunque briciole rispetto ad alcuni clamorosi ritrovamenti in passato. Nel 2020, in una chiesa abbandonata nei Paesi Bassi venne portata alla luce una straordinaria collezione che comprendeva più di 230 veicoli, la maggior parte dei quali provenivano da marchi di fascia alta come Mercedes, Rolls-Royce, Ferrari e Maserati. E cinque anni prima, a Châtillon, Belgio, venne ritrovata la collezione che il finanziere Roger Bayonne aveva iniziato a creare negli anni 50, per il proprio museo automobilistico, sino ad acquistare 200 veicoli circa. Quando Athercurial Motorcars la recuperò era praticamente un cimitero metallico dove la natura aveva preso il sopravvento. Da allora la maggior parte delle vetture è stata venduta, con un totale di 52 milioni di dollari incassati in varie aste. Guardiamoci in giro, insomma. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.